Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Massacrato dalla critica, massacrato dagli streamer e massacrato da quelli che si ergono ad essere dei critici videoludici. È innegabile che il gioco abbia avuto qualche problemino, ora è uscita la patch 1.1 che ha rivisto un sacco di cose davvero, nel senso dallo spawn dei nemici, dalla varietà di nemici incontrate, dalle ottimizzazioni grafiche, insomma io lo inizio così, senza avere pregiudizi. L'ho già giochicchiato un po', una mezz'oretta, ve lo porto, come porto sempre i giochi, data anche che ho una collaborazione con Bethesda, ve lo porto in modo del tutto imparziale. Il gioco si presta ad essere un qualcosa di simile a un Left 4 Dead o un Back 4 Blood, nel senso che lo potete giocare con amici, indipendentemente che loro lo abbiano su Epic Store o su Steam, perché potete loggare con l'account di Bethesda e giocarlo insieme. E' uno shooter, non è perfetto, potete scegliere vari eroi all'inizio della partita, io ne ho scelto uno che è Jacob. Ogni eroe ha delle abilità precise, quindi potete vedere qui Jacob che ha l'abilità Corvo, che può far volare e scansionare i nemici, il velo per nascondersi ai nemici e evocare un fucile spettrale. Abbiamo Laila con abilità ascensore ombrello ex-vampiresco, Devinder l'elettrolancio alla traslocazione alla lampada UV e Remy che ha la carica di C4, la sirena che distrae i nemici e la mobilitazione. Ora, io ho l'errore già scelto e comincio a posso ospitare una partita o giocarla, diciamo, in single player, scegliendone anche la difficoltà. Il gioco parte subito e la cosa che mi ha dato un pochino fastidio vedendolo giocato è che sono uscite le prime recensioni e non avevo dei voti altissimi perché aveva 5-6. Dopodiché, il gioco, vi dico la verità, non lo avrei comprato, anche in virtù di queste recensioni. Ma la cosa che mi ha dato fastidio è che poi hanno iniziato tutti, come dicevo, a fingersi dei critici, anche i canali piccoli che non sono giornalisti, andando a criticare qualsiasi cosa manco fossero i più esperti del mondo, del settore, nel senso che iniziavano a guardare ma non è possibile, è una texture così poco definita, ma guardate, no, non si può. Allora, vi dico la verità, adesso poi lo giochichiamo un pochino, non è il gioco della vita e magari giocato da solo non è divertente, anche se come shooting non mi è dispiaciuto. Può essere un bel passatempo, se lo giocate in co-op con due o tre amici, ma anche solo con un amico, lo giocate in due, ve lo fate, ha lo stealth, ma non è un gioco stealth, quindi assaltare a viso aperto è divertente, magari non accontenterà chi vuole qualcosa di più strategico, però vi dà le sue soddisfazioni. Ha una narrativa che è stata criticata perché non ha delle grandi cutscene, anzi è fatta a vignette, e questo è un espediente per non realizzare... E poi, vabbè, la grafica è quella simile a un po' un... quello che può essere un personaggio dei titoli che è doppiato in italiano, quindi una sorta di... Dishonored. Che cos'è? Di che cosa parla Redfall? Di una città in cui si è diffuso un morbo e ci sono i vampiri. Molto, molto in sintesi questo. Poi io non sono qui a criticare la storia perché dovremmo giocarlo tutto, però ve lo faccio vedere, vi faccio vedere com'è, vi faccio vedere un po' com'è lo shooting, e un'altra cosa da dire è che vi dico subito, perché preferisco essere onesto, costa 69 euro ed è una cifra eccessivamente alta per quello che ha da offrire il gioco nel complesso, perché non è un capolavoro quello, lo sanno tutti, penso lo sappiano anche gli sviluppatori, ma c'è da dire che hanno iniziato a lavorarci. C'è scritto che comunque, e questo mi ha fatto molto riflettere, nel senso che loro hanno ringraziato le persone che hanno dato loro feedback su Discord, sui vari forum, e hanno iniziato a lavorarci. E questo è un approccio che secondo me è costruttivo, piuttosto che tutti quei canali, ma non voglio fare i nomi, ma li trovate, sono canali conosciuti e leggermente meno conosciuti, che comunque, come ho detto, hanno fatto i critici, hanno sparato a zero, hanno detto no, non è possibile, non è possibile, non è possibile, soprattutto quel canale in cui parlano principalmente due persone, non quello famoso, famoso, un po' meno famoso, però insomma ho sentito critiche un po' anche da loro. Ora, abbiamo le scorte mediche, possiamo acquistare, no, non abbiamo abbastanza soldi, vedete che abbiamo lo spazio nell'inventario, abbiamo i grimaldelli che non possediamo e altre cose. Allora, praticamente, noi adesso dobbiamo andare, ok, scorte di rifornimenti, questa è la base, l'hub l'abbiamo conquistato, e il tutorial ci sta ancora spiegando come funziona il gioco. Dicevo, l'approccio è stato costruttivo da parte degli utenti, perché loro poi hanno iniziato a lavorarci, insomma, quindi ovviamente si vede che il gioco comunque ha avuto dei problemi evidenti in fase di sviluppo, questo è ovvio, ma c'è da dire che non è fatto male, perché comunque tanti ambienti sono ben dettagliati, insomma, quindi stiamo andando a conoscere i personaggi. La grafica è quella tipica dei Dishonored, E' ovvio che dipende anche dalle aspettative che uno ha del gioco, perché se uno si aspetta il capolavoro, ok, rimane deluso. Se uno parte, come me, senza aspettative, può diventare un bel passatempo. Vi dicevo, 69 euro sono troppi, secondo me, a parte che, vabbè, c'è gente che paga 300 euro dell'acqua, quindi, se siete ricchi, insomma. Però secondo me un prezzo giusto potrebbe essere, magari da aspettare sotto sconto, 29 euro. Lo comprate con un amico, lo giocate. La storia sono 11 ore, ma calcolatelo, potete giocare anche in difficoltà più alta, giusto per complicarvi un pochino la vita. Ora, questi sono gli oggetti smariti, quindi possiamo anche acquistare, ma non abbiamo valuta, perché ne abbiamo solo 400, quindi mi mancano anche i Grimaldelli. I Grimaldelli servono per aprire le porte. Intanto ci stanno facendo conoscere tutti i vari personaggi della base e poi andremo fuori nel mondo. Vi farò vedere anche la... Vi farò vedere anche la mappa di gioco. Ecco, questa è una peculiarità. Quando affrontiamo i boss, una volta portati a vita a zero, se non li palettiamo subito, la vita gli si rigenera, quindi c'è la super mossa da fare. Poi vi farò vedere anche il menu. Ho detto che ogni personaggio ha un'abilità, ma ha delle abilità, ma c'è anche un albero di sbloccabili. Piacere mio. Adesso esploro l'armeria vicino ad Anna. Allora, l'armeria, eccola qua. E qua possiamo andare ad acquistare le varie cose, rifornire le armi, quindi qua pagando ce ne vengono fornite altre. Non abbiamo soldi, quindi c'è poco da fare. Bisogna andare di sopra adesso. Usare il tavolo del briefing. Quindi bisogna salire di sopra. Questa io, comunque, prima era tutta completamente infestita, l'ho liberata. Personalizzazione dell'errore. Posso usare un paletto per personalizzare le armi. Va bene. Cambiare l'abito dell'errore. Va bene. Questo è il tavolo del briefing. Missione principale, dove possiamo andare avanti con due piccioni con un'uno fa. Andiamo ad accettare una missione. E vediamo. come abbia avuto inizio. Non mi importa. Quando siamo arrivati, sembrava che fosse già Halloween. Strade deserte. Fuochi che ardono. Cose che spiano dalle finestre. Il secondo giorno si sono mossi. Mi hanno preso e portato via. Sono svenuto. Mi sono svegliato col sapore di sangue in bocca. E questo uccellaccio. era meglio l'inferno e la schiena spezzata. Ma non decido io. Non posso tornare alla bellwether. Sì, ovviamente abbiamo perso l'inizio della storia. Insomma, che me lo sono giocato io, ma... C'è un'isola. Siamo su un'isola. E quello è l'inizio che avete visto da qualsiasi canale se vi siete già informati sul gioco. Però diciamo che... Io parto un pochino favorito perché giocando tanti indie non avete idea di che elenco di giochi mai portati sul canale per limiti alla decenza. Quindi, insomma, chi è abituato a giocare giochi soltanto capolavori è ovvio che ha avuto un approccio magari un po' di delusione perché si aspettava chissà che cosa. Io essendo abituato molto peggio riesco a trovare lati positivi ovunque. E... Sì, onestamente ci poteva essere più interazione ci poteva essere più cose mille cose in più, ma... Tant'è... Cioè, possiamo rivalutarne sul prezzo. Quello è vero. Però... Cioè, non me la sento, diciamo, di condannare così tanto. Allora, abbiamo due pistole. Vedete che sono due che usano tecnicamente dei proiettili diversi. Hanno anche il mirino diverso. Quindi mi sembrano anche uguali come pistole. Ma ognuno ha i suoi proiettili. E questo è il fucile a pompa. Adesso vi faccio vedere un pochino tutti i menu. Poi ci lamentiamo sempre della lingua, ma... Questo è tradotto. Io sono entrato da lì. Allora, l'approccio della conquista della stazione dei pompieri poteva essere fatto in vari modi. Potevo scassinare, ma non avevo i grimaldelli. Potevo salire sul tetto ed entrare da lì. Io sono entrato da qua, mi hanno visto subito che erano qui e mi hanno iniziato a sparare. Esplorando troverai numerosi percorsi che si dipannano per Redford. Potrebbe essere meglio percorrere una via indiretta. Usa la mappa per posizionare i tuoi indicatori in modo da orientarti con facilità. Seguire la strada ovest e riporterai al luogo storico più vicino che potrai usare come punto di viaggio rapido di rientro se qualcosa va storato. Perfetto. Adesso vi faccio vedere tutto. Vi faccio vedere la mappa. Allora, con la M apriamo la mappa e vedete che dobbiamo raggiungere questa zona qua. La mappa è questa. Cosa potranno fare gli sviluppatori adesso? Migliorare i difetti che aveva lo spawn la varietà di mosti e hanno già iniziato a lavorarci e aggiungerci altre cose. Poi la natura del gioco non cambierà probabilmente. Comunque la dotazione è questa con le armi che possediamo. Qui non abbiamo la reliquia di vampiro supremo e la reliquia di sangue la andremo a sbloccare andando avanti. Abbiamo le chiavi che collezioniamo sono tutti collezionabili questi i Grimaldelli i kit di ricablaggio per aprire le serrature elettroniche e le scorte mediche che attiviamo col tasto Q. Abbiamo le abilità vedete che le abilità sono queste con la possibilità appunto di prendere abbiamo Corvo col tasto Z scansionare i nemici intorno a noi possiamo andare a potenziarli così come possiamo andare a prendere il potenziamento al Grimaldelli il potenziamento nel corpo a corpo nei vari punti proiettili trasportabili e cose varie la vita e così via quando mi accompagno di squadra torno in piedi con più salute quindi possiamo andare a potenziare queste cose ora dobbiamo vedete come ci diceva il gioco possiamo andare a adesso non col tastino centrale del mouse possiamo posizionare dei vari indicatori e quindi andare a dire cioè avere un punto in cui sapere dove andare ora apriamo la porta e usciamo all'esterno e così vediamo anche lo shooting come l'ultima cosa insomma io non voglio il fatto che a volte abbia allora c'è il DLSS quindi va a moderare in automatico la grafica in base agli FPS e i frame ovvio che poi io ho visto dei video gameplay in cui dicevano eh non è possibile di qui ma un minimo giocatelo cioè non cioè tutti a mani nei capelli non è possibile non è possibile non è possibile ma giocatevi i giochi rilassatevi un attimo cioè non non lo so sto iniziando a diventare veramente allergico a quelli che fanno costantemente i protestatori di qualsiasi cosa queste sono cose interagibili quindi sparandoci esplodono poi io sono stato anche accusato di modo aspero di a te piace tutto a te piace tutto no cerco dei punti positivi in ogni cosa e poi ne faccio una valutazione ma non manco di rispetto a per quanto magari uno abbia avuto uno sviluppo travagliato questi sono dei seguaci vedete poi lo shooting è un po' fatto in modo suo nel senso che vedete che ha una balistica da ha una balistica da gioco arcade fine prendiamo munizioni lutiamo e poi ovvio non è sempre fluidissimo vi dico la verità ma in coppa ci può stare cioè secondo me il prezzo giusto potrebbe essere 29 euro e tutto dipende dalle aspettative perché se uno si aspettava il nuovo Dishonored è ovvio che rimane deluso perché non è quello anche l'esplosione cioè è quello che è ma finisce lì cioè non faccio un talk show da 40 minuti sulle esplosioni cosa che ho visto fare ad alcuni finisce lì la cosa cioè è ovvio che uno deve vivere facendo video che uno deve vivere facendo critica quindi si perde via parla di varie cose guarda le esplosioni che cose sono frega niente io sono diverso quindi ho sentito non capisco da dove però forse qua c'è qualcosa ma anche solo per far capire quanto comunque ci stanno dietro hanno avevano criticato il fatto che sparando i vetri non si rompevano hanno fatto l'aggiornamento e adesso i vetri si rompono con un colpo adesso di là stiamo andando in una zona ma c'è un vampiro di là andiamo a vedere intanto potremmo approfittarne ma non sparare a me spara al vampiro c'è un sacco di gente qui ok si perfetto allora qua c'era qualcuno di di rapito ci sono documenti ci sono trafiggi ok e il vampiro è finito quello poi bisogna vedere se ce ne sono altri però dovrebbe esserci la 40 in giro per poterla riattivare in modo da attivare la struttura almeno da quello che ha detto bisognerebbe fare eh no ma ce n'è un altro di vampiro lì mi scusi ah ok non so se questa sia una zona da prendere ma sicuramente quella là si quindi quindi sarà interessante a 98 metri e rifugio a questo abbiamo già ucciso due vampiri manca la corrente ok ma l'abbiamo già messo in sicurezza abbiamo ucciso vampiri fino adesso però vediamo allora vediamo se c'è qualcosa che si può fare qui poi la quantità di armi non dovrebbe essere neanche male e aia ci sarà qualcosa come potenziamento però aspetta un secondo devo capire dove va la corrente dove si attiva la corrente qui forse borsa da viaggio vedete che ci sono oggetti da prendere devo ancora capire l'utilità ma dovrebbero essere utilizzabili per dei potenziamenti allora accendi accedi manca la corrente la corrente devo capire da dove si prende da dove si attiva no c'è qualcuno comunque qui è di là si prendo la Q tengo premuto vedete che mi faccio l'iniezione di usando un poi l'altra cosa su cui si può dire il fatto che voi uccidete un nemico il nemico aveva un mitra e il mitra non lo prendete però anche lì è sempre il salto discorso di che cosa ci si aspetta e stiamo parlando di un gioco non stiamo parlando di di tarco il feedback dei proiettili è quello di un gioco arcade vedete qua ho ucciso questo ma tecnicamente non ho il l'arma che ha usato fino a un attimo fa adesso qui volevo capire perché qua c'è un generatore quindi credo si debba attivare vedete però serve usa chiave rifugio di basswood quindi non la posso ancora attivare va trovata la chiave per attivare quello quindi niente rifugio almeno credo qua sparando prende fuoco perfetto cosa che ho notato è che mi hanno sparato una volta in faccia e sono morto subito quindi ho apprezzato questa cosa adesso qua c'è il vampir quindi devo e questo non è non è subito fatto perché finito i colpi bene molto male allora fatemi caricare le due pistole si poi come vedete lo shooting è estremamente arcade ok ok non ho non ho paletti e questo è un gran peccato ah no devo avere questo giustamente me l'avevamo dato apposta per trafiggere ok ho preso il vampiro non ho possibilità di attivare la corrente mi dispiace quindi è un rifugio che dovrò attivare successivamente comunque quello che stiamo facendo adesso è stiamo un po' divagando perché non dobbiamo andare lì ma dobbiamo andare là quindi ho sbagliato completamente direzione poi altra cosa io parlo poi la ruota libera mondo vuoto è un open world su quest'isola dove si sbloccano rifugi dove non c'è effettivamente si prendono oggetti ma non c'è anche diciamo da scoprire come può essere un dying light dove magari trovate la chicca l'easter egg o le cose da fare ci sono anche delle secondarie quanto visto però di base non è la funzione principale cioè potete trovare munizioni ne avete bisogno seguite la storia e basta come ho detto non è un capolavoro può essere divertente giocato con amici quello senza dubbio non ha 69 euro è da prendere scontato e 29 euro secondo me potrebbe essere un buon prezzo però ecco io ho avuto la possibilità di provarlo e darvi il mio parere poi ovviamente ci sono il mondo è bello perché vario e ognuno di noi è appassionato a cose diverse se avete già spolpato Left 4 Dead Back 4 Blood Outriders tutti quei giochi lì cooperativi shooter vi giocherete anche questo senza ombre di dubbio se siete appassionati di giochi del ruolo questo non lo giocherete mai perché non c'entra niente con un gioco del ruolo la logica è quella adesso vedete ad esempio vabbè la nebbia rossa non ci possiamo andare quella foschia rossa non è normale ma noi possiamo trovare ad esempio qui un percorso con un amico e farglielo fare all'opposto da lui noi andiamo di qui li prendiamo su due fronti magari giocando ce l'ho a difficile creando una difficoltà maggiore oppure mi posso muovere silenziosamente ma in questo caso è già andata a farsi friggere ecco come dicevo prima a me è successo che mi sparassero due passi e e sono morto subito vedete qua è tutto estremamente stealth poi ti sentono non c'è un tasto di stealth tuttavia vedete che finito subito così uccidendoli io ottengo munizioni adesso ho preso fucile a palettone ma sono un po' distanti sono veramente tanti vedete che lo shooter è quello di gunplay è quello di un gioco arcade sto mirando cioè non sto mirando adesso mi curo ho finito le scolatte mediche adesso ricarico può dare anche la la sua soddisfazione ok e potevo sparare anche qua comunque borsa di inseguarci o cure no devo trovare assolutamente dei miei di kit ma ciò che si è porcali sono sparsi per redfall in nascondigli ai luoghi difficili da raggiungere questi manufatti contengono ciò che ricapella appartenente al mistero della figura ottenere bonus alla rigenerazione ok cioè di cose ce ne sono di cose da scoprire ce ne sono bisognerebbe approfondire ma se io sparsi ok ok va bene e qua scende di sotto ho preso il mio primo rimaldello fantastico una maschera anti gas che sono tutte cose da vendere poi perché potrei andare a vedere si sono tutte cose e le personalizza perché poi ci sono tutti i costumi da mettere da sbloccare insomma è classico di questi giochi fatti così le reliquie non le ho le armi le posso scegliere vedete che ne ho diverse magari posso della pistola mettiamo adesso io cosa ho selezionato Gulch e Grim Tide prendiamo quello e vediamo subito com'è perché eccolo qui bellino eh no è finita sono saltato giù nella nebbia rossa insomma si muore in istante in quel caso lì ragazzi io vi ho portato dandovi un pochino il mio parere superficiale su Redfall che comunque ha una suo certo carattere ovviamente cerco di dare un parere un pochino fuori dal coro e e dirvi che onestamente si non pagerei 69 euro 70 euro però il gioco funziona nel senso che non dipende ed è la base dell'aggiornamento da che cosa vi aspettate dalle aspettative che avevate sul gioco io non ne avevo perché non lo sapevo cioè sapevo uscisse Storyful era una cosa sui vampiri ma non mi sono fatto hype o illusioni alla fine ora lo prendo con una sorta di Left 4 Dead da giocare in cooperativa con amici e finisce lì l'avrei adesso io ho avuto l'opportunità di provarlo ovvio se avessi un amico con cui giocarlo lo giocherei in cooperativa come passatempo non il classico gioco su cui passare 100 ore ma ce lo finiamo ci passiamo delle ore soprattutto a maggior ragione se siamo degli appassionati di Left 4 Dead o giochi del genere ecco questa è la mia visione del gioco spero di avervi se non lo volete comprare insomma di avervi intrattenuto di avervi fatto passare una mezz'ora diciamo di intrattenimento attendo il vostro parere se magari voi lo avete acquistato vi è piaciuto non vi è piaciuto perché io ho letto comunque anche di gente che nonostante tutto ci ha passato i fine settimana a giocarci e si è divertito quindi è per dire che tante volte si parla forse un po' troppo adesso voglio usare il nuovo nuova arma voglio provarla prima di andarmene sono tantissimi uno e poi sono un cane io a mirare ma sto solo peggiorando si poi si criticava un pochino l'intelligenza artificiale dell'IA cioè dell'IA insomma del movimento perché erano un po' passivi ma stanno lavorando anche a questo l'hanno migliorato quindi magari qualcosina la varietà di nemici l'ha cambiata e ho visto già delle recensioni migliorate di gente che l'ho provato con la versione che stiamo provando adesso la 1.1 quindi non so se l'avete giocato magari all'inizio alla 1.0 riprovatelo comunque io vi saluto fatemi sapere che cosa ne pensate lasciatemi un commento qua sotto la vostra esperienza il vostro parere insomma dopo aver visto magari questo video e alla prossima ciao ciao